ciao a tutti bentornati sul mio canale youtube in questo video voglio mostrarvi dei regali che mi sono stati fatti da un amico innanzitutto per ringraziarlo ancora una volta appunto di questo pensiero che ha avuto nei miei confronti e ma anche per mostrarvi appunto quali sono stati questi regali perché sono delle cose veramente particolari che ci tenevo a mostrarvi allora il tutto è contenuto all'interno di questa scatola che già di per sé è meravigliosa io la trovo veramente fantastica quest'anno si porta tantissimo questa colorazione queste insomma confezioni scatole tutto quanto in canapa e devo dire che questa scatola mi piace veramente tantissimo come potete notare appunto si chiude sul davanti con questo elastico che si apre e appunto all'interno ci sono i materiali che mi sono stati regalati da questo mio amico che posso a mostrarvi singolarmente allora innanzitutto c'è una bustina piena di coppette che sono veramente fantastiche sono bellissime le faccio vedere sono delle coppette abbastanza grandi che sicuramente io utilizzerò per le lavorazioni a kumiimo e ce ne sono diverse appunto piatte queste qui argentate poi alcune che sono appunto dorate un po più grandi queste dorate un po più piccole e poi ci sono appunto queste argentate mi piacciono veramente tantissimo io non riesco mai a trovare delle coppette particolari da utilizzare appunto nella lavorazione del kumiimo e quindi sicuramente queste saranno utilizzate al meglio oltre alla scatola delle coppette un altro regalo gratuitissimo sono stati questi fili di ematite vi faccio vedere sono dei fili di ematite veramente spettacolari allora vi faccio vedere questi qui che sono di un dorato molto chiaro un bronzo chiaro non non è un dorato acceso sono quattro fili eccoli qui guardate la grandezza di queste matite praticamente sembrano delle delica sono veramente spettacolari bellissime questa appunto è la colorazione bronzo chiaro poi ci sono quattro fili nella colorazione classica appunto delle matite che è questo color canna di fucile bellissimo a me piace tanto infatti lo sto utilizzando anche tantissimo in questo periodo per realizzare bracciali da uomo e anche queste praticamente sono della stessa forma del delle altre che vi ho mostrato eccoli qui guardate che belle infine ci sono quattro fili di questa colorazione argento che è spettacolare se non mi sbaglio questa è una matite patinata al titanio quindi hanno fatto appunto queste patine particolari per dare alle matite una colorazione diversa quindi in questo caso sia queste argento chiaro che le dorate dovrebbero avere questa patina mentre queste altre qui sono della colorazione proprio classica delle matite quindi queste qui appunto sono quelle argento chiaro sono della stessa identica forma e sicuramente ho già un'idea per utilizzare questi tre fili e ovviamente ve la farò vedere poi con il tempo perché devo avere un po di tempo per lavorarci e per finire mi ha regalato anche quattro fili di angelite è una pietra che io adoro alla follia ovviamente come sapete io ho una una passione per queste colorazioni per queste sfumature e quindi la adoro poi devo dire che mi serviva e quindi è stato veramente gentilissimo nell'omaggiarmi appunto con questa con questi fili di angelite che sicuramente utilizzerò al meglio bene questi sono i regali che ho ricevuto devo dire che sono veramente felicissima e non vedo l'ora di utilizzarli spero di farmi venire qualche idea creativa per riuscire ad utilizzarli tutti al meglio io ringrazio tantissimo questa persona e ringrazio tantissimo voi per aver visto questo video spero che insomma di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo di diverso e magari potete cercarli anche voi e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video un bacione alla prossima ciao 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 ciao